Buongiorno carissimi, bentrovati in questo venerdì della seconda settimana del tempo di avvento. Ci tuffiamo ancora una volta nel dono della parola di Dio. Oggi siamo al capitolo 48 di Isaia, i versetti 17 e 19, e si fa un po' un resoconto di quella che è stata la storia del popolo di Israele, di un popolo che ha mancato un po' nell'ascolto della parola di Dio, ha mancato un po' anche nell'osservanza della legge, e pertanto questo l'ha portato ad allontanarsi dalle promesse di Dio. Però nella lettura odierna si sente proprio così dire, io sono il Signore, tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. C'è un presente, perché Dio rinnova le sue promesse, rinnova la sua fedeltà, rinnova il suo amore per noi, oggi, anche oggi. Ed è bello perché ci fa porre attenzione realmente sulla grande misericordia e sul grande amore di Dio per la nostra vita. Ebbene, perché nella nostra esistenza è inevitabile che siamo chiamati a porre attenzione. Forse quando eravamo piccoli ponevamo poca attenzione su quello che i genitori ci dicevano come insegnamenti di vita, usando dire che erano un po' retrogradi e che non comprendevano bene le cose del mondo. Forse il tempo però ha dato ragione a loro. Molto probabilmente nell'adolescenza abbiamo dato molta più attenzione a quello che gli altri dicevano sul nostro conto, perché avevamo un'autostima forse un pochettino più bassa e quindi gli altri ci mettevano anche un po' in soggezione e non eravamo forse, avevamo la paura di non essere accettati dagli altri. Bene, nella vita poniamo attenzione, non utile a dire, certe volte anche come vestiamo, certe volte anche su quello che mangiamo e tante altre cose. Quell'attenzione che ritroviamo anche nel brano del Vangelo di oggi, siamo al capitolo 11 di Matteo, versetti 16-19, dove Gesù sottolinea il fatto che è venuto Giovanni che aveva un ascetismo un pochettino anche rigido e è venuto poi Gesù che è una condiscendenza benevola, quella del Signore verso l'umanità, ebbene non è andata bene né per l'uno né per l'altro. Quindi dice Gesù c'è una certa incapacità nei contemporanei quella di cogliere la bontà del tempo presente. Ci si lamenta sempre un po' come quei bambini capricciosi di cui parla il Vangelo. Questa generazione a chi la posso paragonare? Simile, dice Gesù, a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni, gridano, vi abbiamo suonato il falto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È inutile a dire, quindi non ci va bene forse mai niente. Allora siamo chiamati a riconoscere veramente l'ora di Dio. Queste munizioni che ci vengono dalla liturgia di oggi, queste munizioni anche profetiche, scuotono un po' ciascuno di noi per trovare che cosa? Per trovare il Signore e seguire il suo agire, perché è questo che ci porterà grande felicità nella nostra vita. Allora poniamo attenzione, attenzione nel Signore che passa, che ci parla nella sua fedeltà, attenzione verso la nostra vita, sì, ma soprattutto verso il prossimo che incontriamo con i nostri sguardi, che riusciamo anche a vedere, se anche forse con un po' di distanza riusciamo anche a pensare al nostro prossimo. Poniamo gesti di attenzione in questa giornata, non perché li vogliamo ricevere anche noi, perché è bello dimostrare a noi stessi anche questa capacità di avere un cuore, un cuore che sa amare, un cuore che sa pensare, un cuore che sa agire. Buona e santa giornata a ciascuno di voi e un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.